Nasce a Frascati in provincia di Roma nel 1983, frequenta la scuola romana dei fumetti e si laura presso il Dams di Roma 3 in sceneggiatura lavora come disegnatore in Francia su Dracca e Infinity 8, pubblica un libro di strisce e le generali invenzioni del professor Caspita lavora come colorista su Orfani e Dylan Dog, disegna una storia per Dylan Dog Colorfest nel 2013 colora Mostra di University per Walt Disney America, è co-creatore con Robert Kirkman di Oblivion Song Robert Kirkman è quello che ha creato The Walking Dead per chi non lo sapesse a novembre negli Stati Uniti farà il suo esordio Croma, la sua nuova serie come autore unico prossimamente Croma arriverà anche in Italia in un'edizione sempre curata da Salda Press ragazzi quindi io non perderei altro tempo e vi presenterei Lorenzo De Felici ma prima ragazzi di questo come al solito sigla allora Lorenzo appunto ti ho introdotto, sei un fumettista, sei un illustratore, sei una persona che lavora in Italia, che ha lavorato all'estero insomma una persona che vive di illustrazione e non è così facile in questo paese ecco quindi vorrei partire dall'inizio come al solito con i miei ospiti e chiederti come ci sei arrivato come sia arrivata la decisione ok io adesso lavorerò nel mondo del fumetto adesso colorerò, disegnerò, produrrò fumetti ma allora non è che è stata proprio una decisione, un'illuminazione improvvisa è stata una cosa che ci ho sempre avuto in testa da quando ero bambino, da quando li leggevo io ho cominciato con Topolino come tanti italiani e ho continuato da lì poi sono passato agli americani e diciamo che sin dall'inizio ci ho sempre avuto una predilezione per il disegno mi è sempre piaciuto disegnare un sacco, cioè mia madre un pochino dipingeva da giovane e mi aveva attaccato sopra il letto quattro quadretti che erano, sono stati un po' una sorta di sigilli che mi hanno guidato il resto della vita, mi ha attaccato un quadretto disegnato da lei uno di, ma quando ero proprio appena nato, uno di Charlie Brown, uno di L'Uomo Ragno uno di La Pantera Rosa e uno di Braccio di Ferro è come se piano piano quei fumetti, cioè quei quadri mi fossero scivolati dentro al letto tipo Santini non lo so, non ci ho mai avuto dubbi o esitazioni onestamente sono stato sempre molto capoccione su questa cosa e poi niente, semplicemente ho seguito tutta la strada che più logicamente mi ci avrebbe portato quindi ho fatto una scuola di fumetto, ho studiato sceneggiatura perché pensavo, ok, da una parte mi imparo a disegnare, dall'altra imparo a scrivere e poi ho cominciato a lavorare da lì, insomma, all'interno della scuola ho conosciuto alcuni professori che mi hanno un po' preso sotto la loro ala protettiva pian piano e con loro ho cominciato a lavorare e poi da lì è stato tutto un po' un susseguirsi di cose, di occasioni di sconfitte, di vittorie però ecco, diciamo che incoscientemente ho fatto questa cosa cioè non mi sono manco chiesto ma mi conviene, ma è una posta saggia oppure ho alternative cioè è come quando cammini su un ponte e se guardi di sotto ti fermi e dici no, che sto a fa' fermo no, cioè sono andato dritto avanti e la fortuna mi ha baciato in testa, non so tra l'altro ci sono dei ragazzi in chat che non so se è vero è che spesso trollano però dicono che tua madre è stata la loro insegnante di biologia ah sì? eh sì sì mia madre e mio padre sono stati ora sono in pensione ma sono stati entrambi insegnanti di scienze di biologia al liceo il che poi mi ha anche influenzato su alcune scelte artistiche devo dire in età adulta qual è il ponte tra la scienza e il fumetto? il ponte c'è un po' su tutto perché è più una questione di mentalità la mentalità che ti entra un pochino nella testa per esempio io quando mi occupo di fare il character design di qualcosa o il design di creature, mostri, pianeti, fantascienza eccetera io cerco sempre di applicare un metodo scientifico alla cosa invece di partire da zero e dire ok devo fare il mostro strano che abita su questo pianeta per esempio con Robert Kirkman su Oblivion Song mi è capitato proprio questo io a un certo punto Robert mi ha detto ok adesso tu devi fare il design di una dimensione alternativa con un pianeta alieno e creature alieni della responsabilità esatto e poi mi ha specificato che non voleva che fossero dei mostri ha detto voglio proprio che siano degli animali e quindi io lì insomma i miei ricordi di famiglia scientifica mi hanno spinto verso una direzione ben specifica e quindi invece di appunto partire dall'immaginazione da fare creature che magari fossero fighe o semplicemente belle graficamente sono partito prima dal pianeta e una volta che ho pensato a come fare questo pianeta in maniera interessante ho detto ok adesso che tipo di creature si potrebbero evolvere su un pianeta che ha queste caratteristiche e quindi sono partito da lì e ho fatto una sorta ricostruito una sorta di evoluzione ipotetica seguendo diciamo delle regole che poi si appoggiano al metodo scientifico ovviamente insomma c'è sempre una grossa approssimazione però diciamo che in questo senso mi sono ritrovato un pochino questa parte di me che è stata sempre un po' nascosta ma che mi ha sempre affascinato molto quella del contatto con la scienza mi è tornata utile insomma in una maniera un po' inaspettata ma piacevo è fighissima questa cosa di partire da la cellula e di arrivare alla creatura cercando di riassumere un po' il metodo scientifico l'evoluzione mi ricorda un po' il videogioco Spore non so se lo conosci ma è un po' quello il principio tra l'altro Aldams te appunto ti sei laureato in sceneggiatura però non hai deciso subito di fare sceneggiatura a quanto ricordi quindi come mai hai deciso di cambiare strada e di non abbracciare subito la sceneggiatura nel fumetto magari anche? beh perché mi rendo conto che la sceneggiatura e il disegno sono due discipline molto diverse che presumono una preparazione molto approfondita sia in un campo che nell'altro quindi io invece di partire a bomba su entrambi e magari fare male tutte e due ho detto ok mi concentro soprattutto sul disegno che è la cosa che è un po' più velocemente vedibile se vogliamo dire perché è più difficile affermarsi come sceneggiatore si fa una gavetta incredibile invece a volte arrivare dal disegno già stai lì diciamo in un certo senso io ho da sempre voluto anche scrivere però ho detto vabbè disegnare mi riesce abbastanza bene quindi intanto comincio con quello e poi se l'occasione si presenta comincerò anche a scrivere quello che voglio disegnare detto questo io non è che voglio fare lo sceneggiatura a me piace tantissimo collaborare cioè secondo me il fumetto è proprio uno dei medium che più di tutti si arricchisce grazie alla collaborazione perché molto spesso nel fumetto la collaborazione è ristretta è tra poche persone non è che è un film ci lavorano 500.000 persone e quindi c'è una chiarezza maggiore una lucidità maggiore un confronto più diretto tra magari due persone trovo che ecco diciamo l'interazione tra più di una persona dietro un'opera come per esempio il fumetto dà molto spesso dei risultati che ovviamente nell'una persona nell'altra da sole avrebbero potuto raggiungere quindi insomma io voglio pure continuare a collaborare però se nel frattempo ogni tanto mi viene qualche storia che mi va di raccontare e me la fanno raccontare io sono felice di farlo insomma e hai avuto delle influenze nel tuo percorso all'inizio cioè nella sceneggiatura e nell'illustrazione cioè quali sono stati i tuoi maestri a parte quelli che ti hanno preso come dicevi prima sotto la loro ala beh sì sicuramente ho avuto delle influenze come penso tutti gli artisti io ho cominciato a leggere i fumetti americani e ho continuato a leggere per un sacco di tempo mi sono un po' formato graficamente inconsciamente ma mi sono formato lì sulle pagine dell'uomo ragno soprattutto dopodiché ho cominciato a rivolgere la mia attenzione anche al mercato europeo quindi a quello francese a quello italiano in seconda battuta ma non da subito e anche perché sapevo che sarebbe stato probabilmente il primo mercato su cui avrei potuto affacciarmi con più facilità e quindi ho cominciato a leggere anche francesi e italiani devo dire che diciamo in tutto questo marasma di cose se ho dei miei punti di riferimento per la sceneggiatura ma non tanto persone a cui vedo o a cui diciamo cerco di imitare più sono delle persone che sicuramente mi hanno trasmesso attraverso il loro lavoro un certo tipo di approccio allo storytelling e quindi non sono un fan sfegatato delle delle produzioni che insomma se dobbiamo usare un termine un po' spiacevole ma in un certo senso giusto quelli che si guardano un po' l'ombelico cioè quelli che rimestano e pensano che la loro vita è straordinaria e raccontano delle loro cose come se fossero uniche quelli non mi hanno mai particolarmente appassionato c'è chi lo fa in maniera magistrale ma c'è sempre una rielaborazione dietro tutto cioè dici racconti quelli un po' più intimisti il proprio passato i propri traumi sì perché diciamo che ce ne sono alcuni esempi che sono straordinari e quello non c'è non c'è dubbio io penso a Gipi per esempio esatto per esempio Gipi e quelli non è che vedi niente però c'è sempre una rielaborazione del vissuto attraverso metafore attraverso parallelismi attraverso approfondimenti o cose del genere che innalzano il contenuto e invece molto spesso l'errore in cui si cade è pensare che ah ok mi è successa questa cosa un po' spiacevole un po' brutta oppure questa cosa che a me mi ha colpito tanto perché magari che ne so ero in Erasmus io ora non faccio riferimento a nessuna cosa specifica però mi viene in mente ero in Erasmus lì ero innamorato di questa tizia o di questo tizio e c'è avuto la mia storia però inespressa eccetera tutte queste robe qui tante volte a me non è che mi lasciano tantissimo quindi diciamo che io ho sempre prediletto prediletto molto la rielaborazione di qualsiasi tipo di contenuto però attraverso metafore o generi stilistici magari molto diversi e quindi a me piace veicolare informazioni e raccontare storie che poi magari parlano di me o parlano di esperienze mie o di come sono fatto io di quello cui credo io però raccontando in realtà di tutt'altro quindi ecco diciamo un po' è quella forse la cosa che attraverso le mie letture mi è rimasta di più come inclinazione verso la sceneggiatura poi di sceneggiatori bravissimi ce ne stanno un sacco ma io fatico a imitare il loro stile cioè o fatico anche solo a pensare di poter fare una cosa simile a loro che ne so io sono anche se magari è super scontato però io sono un fan sfegatato di Alan Moore soprattutto delle ultime produzioni che sono un po' in sordina sono finite un po' nel dimenticatoio quasi ma secondo me sono straordinari come Prometea Top Ten Tom Strong tutta questa roba qua dell'ABC che per me è straordinaria è una cosa che è proprio un tesoro a volte nascosto Prometea poi senza senso Prometea ho ricomprato adesso l'edizione inglese cartonata grossa bella perché me la volevo rileggere in lingua originale è una cosa da strapparsi i capelli e poi sul mercato francese ad esempio Trondheim è stata una folgorazione assoluta quando l'ho letto e tant'è che poi a un certo punto in un momento un po' così claudicante della mia carriera dove non riuscivo ad andare avanti con il disegno mi sono un po' impantanato nel mio ruolo di colorista per un po' che per carità stavo felicissimo però non era quello che volevo fare quindi a un certo punto mi è arrivata un'email di Olivier Vatan e Trondheim che mi hanno chiesto se volevo lavorare su una cosa che è stato proprio tipo eh ma perché e mi hanno trovato su Facebook cioè una cosa vergognosa è utile è utile ogni tanto io ho trovato quasi tutto tramite social io sono uno sculato assurdo perché invece di andare alle fiere col book eccetera come si dovrebbe fare come le persone sensate fanno facevano e faranno a me mi sono capitati tutti un po' così in braccio le cose mi hanno scritto sempre perché mi hanno trovato sui social cose così quindi insomma io incoraggio sempre i ragazzi a essere presenti a non vergognarsi eccetera no è vero ma ora per esempio anche io per selezionare gli artisti ho usato Instagram tanto lo capisci subito da uno scroll se va bene con l'illustratore o meno perché postano talmente tanto ormai è quello il portfolio secondo me ma anche le case elettrici fanno così ecco hai parlato di colore te sei stato proprio uno di quelli che ha rivoluzionato il colore in casa Bonelli perché siamo passati da un colore che era sempre fermo lì diciamo da anni da decenni e l'hai stravolto completamente è arrivato un nuovo tipo di colorazione ecco hai parlato di quella parentesi in maniera sbrigativa volevo un attimo invece approfondirla insomma come ricordi quella parentesi della tua carriera e soprattutto da dove sei partito come si è sviluppata questa evoluzione del colore in casa Bonelli per merito tu beh allora innanzitutto ti ringrazio ma il merito non è mio cioè non è solo mio io ho fatto ho giocato una parte all'interno di questa sorta di rivoluzione io ho cominciato a fare il colorista avevo lavorato in America in Francia come disegnatore e colorista su Dracca che hai detto prima e dopodiché dato che io avevo soprattutto allora uno stile molto grottesco e strano diciamo che è difficilmente vendibile per un po' non ho trovato non trovavo sbocchi disegnativi cioè provavo a mandare progetti con degli sceneggiatori in Francia o in Italia e niente allora a un certo punto uno dei professori della scuola di fumetto che ho frequentato Emiliano Mamucari insomma che conoscerai mi ha detto senti noi stiamo tirando su questo progetto prima abbiamo fatto delle cover insieme su Caravan sempre della Bonelli dopo mi ha tirato in mezzo a questo progetto che era Orfani impostando però tutto quanto come effettivamente una cosa che era un po' rivoluzionale in Bonelli perché invece di utilizzare il colore come una specie di bonus perché numero 200 numero 300 ha colori invece di fare una cosa così dove il colore era una specie di abbellimento di fiocchetto è un regalino esatto tipo invece delle figurine degli stickers si mette il colore e invece lui mi ha detto no vogliamo fare una cosa tutta a colori quindi pensata per essere colorata sin dall'inizio mentre Dylan Dogg è nato in bianco e nero per dire e poi si sapeva che lui aveva la camicia rossa per dire però poi tutte le atmosfere tutto il resto eccetera non è stato fatto un design del colore sulle altre cose su Orfani invece c'è stata una lunga genesi anche dal punto di vista cromatico della serie quindi c'è stato uno studio del colore molto approfondito uno studio di un metodo di colorazione che fosse riproducibile facilmente anche da altri coloristi perché poi ogni colorista ha il suo approccio al lavoro e quindi abbiamo dovuto soprattutto all'inizio eravamo io e Annalisa Leoni abbiamo dovuto impostare un metodo di colorazione che fosse riproducibile da altri coloristi con delle fasi molto semplici allora prima fai questo poi fai questo così diciamo il colore era abbastanza omogeneo su tutta quanta la serie tutti i numeri e da lì insomma poi la cosa è andata molto bene perché insomma c'è stata una bella risposta del pubblico a questa novità è stata accolta molto positivamente però ecco è stato uno sforzo in realtà creativo e pratico che è stato un po' di tutti quanti un po' della Bonelli che ha creduto nella cosa all'epoca è stata approvata proprio da Sergio Bonelli poco prima che sfortunatamente ci lasciasse e poi da tutti quelli che l'hanno seguito e diciamo implementata con rigore marziale quasi proprio da Emiliano Mamucari stesso da Roberto e c'è stata una bella lotta all'interno della cosa perché la Bonelli non era abituata a trattare professionalmente anche con dei coloristi che loro hanno sempre visto come un po' tipo l'extra non previsto quindi anche dal punto di vista burocratico c'è stato all'inizio un po' di questioni fumose non si capiva bene come gestirci e anche quello è stato un lento cambiamento che è avvenuto anche grazie a tutti gli altri insomma è bello anche il discorso dell'armonia della continuità cromatica avere una bibbia del personaggio ma anche avere una bibbia dei colori è una cosa che sinceramente non avevo mai sentito però chiaramente in Bonelli era una novità e quindi era una novità anche per me che non avevo mai sentito in Bonelli di una roba del genere molto interessante ecco ho parlato prima del mercato francese ho fatto già questa domanda da altri autori che hanno lavorato con la Francia ma quali sono le differenze principali tra il mercato francese e quell'italiano e soprattutto prima hai detto una cosa che mi ha colpito ho detto che io ho lavorato anche con l'Europa quindi con la Francia cioè già per scontato si dà già per scontato che si lavori con la Francia quando si parla di Europa recupereremo mai il gap che ci separa dalla Francia ma allora non lo so è molto diverso perché sono due mercati che sono unici o meglio quello francese per alcuni versi è più assimilabile a quello giapponese che a quello americano o a quello italiano almeno è una cosa che ho sviluppato cioè un pensiero che ho sviluppato io per conto mio poi io non sono super acculturato sul mercato giapponese conosco ho letto un po' di roba però diciamo che dal punto di vista culturale l'infiltrazione del fumetto all'interno dei vari strati della società dei vari ceti sociali eccetera eccetera mi sembra abbastanza simile nel senso che il fumetto è una parte integrante del substrato culturale del paese non è solamente una cosa popolare per passare il tempo ma ha anche dei ruoli elevati in un certo senso o viene percepito lo ha anche in Italia ovviamente ma in Francia viene percepito come una forma d'arte di un certo spessore di un certo livello mentre da noi un po' per diciamo secondo me una sorta di strano giro del destino un retaggio culturale secondo me siamo troppo legati all'edicola noi secondo me in un certo senso sì adesso le cose si stanno un po' scardinando però quello che io ho sempre registrato è che c'è stato da una parte noi che eravamo legati all'edicola dall'altra l'edicola e per edicola intendo soprattutto la Bonello ovviamente che non ha fatto tanto per nutrire di bacche prelibate il palato dei lettori nel senso che si è un po' adagiato sul fatto che comunque i loro lettori erano là e gli hanno continuato a dare le cose che funzionavano per loro mentre avrebbero potuto fare poi io parlo da mister nessuno però avrebbero secondo me potuto fare con il potere che avevano in mano e che continuano adesso ancora ad avere in mano cercare di portare tutto su una visione un po' più lungimirante della cosa io vedo che in Francia però è difficile fare un paragone perché lì il mercato è molto diverso non è univoco come da noi lì c'è una sorta di competizione c'è una diversità di generi eccetera eccetera dal punto di vista dell'autore io posso dire che ogni volta che sono andato in Francia a fare le firme le dedicasse come si dice là mi sono sempre stupito uno del pubblico che mi veniva a chiedere le firme del tutto variegato tra signori anziane signore anziane che poi prendevano non è che io disegnavo text cioè io disegno roba con i bambini che si mangiano a vicenda quindi però bambini piccolini cose di tutti i tipi cioè veramente è una cosa stranissima peraltro in tutti i posti dove sono andato cioè a volte sono andato in delle città a volte sono andato in dei capannoni in mezzo al nulla nella campagna di Bordeaux però tutto sempre pieno di gente e sempre pieno di appassionati e questo mi ha veramente stupito e mi ha fatto un sacco piacere e poi un atteggiamento molto molto rispettoso che per carità anche da noi ce l'abbiamo però da parte proprio di tutti cioè lì nel senso quando dici che sei un disegnatore di fumetti non lo trovi molto facilmente quello che ti guarda con un po' di sufficienza oppure che dice ah sì mio nonno leggeva Dex ok vabbè sti cazzi anche esatto ma perché lì il fumetto è sempre una cosa che raramente ti tocca quando ti tocca ti importa tanto ma se non ti tocca lo senti così di terza generazione diciamo no ma in realtà la tua riflessione non è sbagliata perché in Francia come in Giappone c'è anche una cultura della rivista a fumetti che poi esce in edicola con vari capitoli di varie storie che poi viene pubblicata anche su cartonato e che va in libreria quindi loro di pari passo hanno portato avanti l'edicola e la libreria non era libreria ci siamo arrivati to dieci anni fa forse cioè quindi insomma siamo rimasti un po' indietro purtroppo poi hanno le loro mascotte che sono andate in giro dappertutto in Europa quindi Asterix Spirou TenTen ti tuff ciao ce n'hai milioni vabbè comunque però scusa scusa se ti faccio una piccola contro domanda ma al di là della questione sì che le cose le pubblichiamo qui noi eccetera eccetera c'ha senso parlare di fumetto italiano quando poi in realtà gli italiani lavorano scrivono disegnano un po' dappertutto cioè nel senso è una bella domanda non lo so allora secondo me si parla di fumetto italiano quando viene fatto tutto in Italia pubblicato in Italia però secondo me il fumetti per esempio te secondo me non sei un fumettista italiano te sei un fumettista punto cioè sei un fumettista che lavora con tutti eh no ma io dico cioè secondo me questa però tex in America per esempio non funzionerebbe cioè non è un fumetto secondo me che può attecchire in America sì no io quello che dico semplicemente cioè te lo dico perché io da un po' ho fatto questo switch mentale per cui da che dicevo sì è un fumettista italiano un fumettista americano un fumettista francese ho cominciato a dire è un fumettista e in quanto tale è insomma può lavorare lì può lavorare qui se sa parlare inglese fondamentalmente può lavorare dappertutto quello sì e quindi boh io ho smesso di preoccuparmi di questo ovviamente il mercato italiano in un certo senso mi sta a cuore perché è il paese dove vivo e se la cultura comincia a abbracciare un pochino di più anche il fumetto io sono solo eh quello intendevo ah quello sì culturalmente sì però non so nel senso magari è un cambiamento culturale che può può avvenire anche a prescindere dalle case editrici secondo me no perché sai i francesi fregano ci fregano tutti proprio con quello cioè con l'identità nazionale cioè per esempio un prodotto come Spirou di Franquen cioè uno come Franquen non avrebbe mai potuto lavorare in America secondo me perché è estremamente francese nello stile nel modo di narrare e loro con questa cosa hanno creato il fumetto francese cioè te quando pensi al fumetto francese pensi a quelle mascotte lì pensi a quel tratto lì alla linea chiara e ci fregano secondo me ci è mancato un po' di coraggio per coltivare una propria cioè una nostra identità culturale nazionale poi è chiaro sì noi siamo anche bravi a far tutto dove ci metti ci metti ormai facciamo Marvel facciamo graphic novel ovunque insomma quindi è un discorso diverso è anche un discorso di marketing i francesi sono bravi in quello purtroppo rispetto a noi non si vergognano per nulla vabbè ma è un discorso si va nella filosofia del fumetto che è un po' complicato ecco invece torniamo a Kirkman che ti ha aspettato quasi per un anno per averti ci teneva a tutti i costi ad averti su Oblivion Song ti ricordi il tuo il primo incontro con Kirkman perché tra l'altro all'inizio te pensavi di uno scherzo sì racconto questa storia perché è puramente vera quando mi ha scritto l'email io ripeto io non avevo assolutamente mandato il mio portfolio da nessuna parte cioè io continuavo in quel momento avevo cominciato a lavorare con Trondheim stavo lavorando non era ancora uscito niente quindi in giro si poteva trovare solamente il mio vecchio fumetto di di dracca quello là francese le mie cose colorate le cose che pubblicavo online e mi è arrivata questa email di Kirkman che mi diceva ciao mi piace un sacco il tuo lavoro ah ti va di lavorare con me di fare una serie di fantascienza e ho detto spero no cioè chi è questo nel senso non è possibile che è proprio Kirkman perché cioè come mi ha trovato perché che ha visto e allora ho scritto a Sara Pichielli che sapevo che aveva il suo indirizzo aveva parlato con lui online perché lo sapevo insomma e ho detto ma questo è proprio lui cioè l'indirizzo suo sì 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 ah ok e quindi ho risposto e ho detto ah beh insomma sì assolutamente sì il problema è che appunto avevo appena cominciato a lavorare per la serie di Trondame quindi ho detto però devo aspettare un anno cioè almeno un annetto circa perché io devo fare queste erano 90 pagine a colori non posso fare eh insomma e quindi alla fine mi ha mi ha detto ok mi ha aspettato mi ha detto guarda l'unica cosa è che prima di di metterci in pausa mi devi fare il primo numero che erano sì erano 30 pagine ok e ho detto sì ma scusa nel primo numero io devo fare pure tutto il design di tutte le cose mondo alieno eccetera eh sì e mi ha dato un mese e quindi io ho dovuto fare tutto il design e il primo numero in un mese no ancora non ho capito bene cioè non ho fatto ritmi giapponesi proprio sì una cosa folle e però niente alla fine poi l'ho fatto lui è stato super felicissimo e poi mi ha aspettato per qualche cioè forse 8-9 mesi ci ho messo e poi ho fatto insomma sono tornato da lui a bomba e abbiamo cominciato su Oblivion Song che è stata un po' la tua consacrazione possiamo dire con o no la definiresti così io sì beh oddio diciamo che è stato il mio primo sicuramente la cosa con più visibilità che ho fatto cioè se vogliamo considerarla una consacrazione io sono felicissimo è semplicemente è stata forse la cosa più di alto livello che cioè oddio ho appena lavorato con Trondheim però sicuramente dal punto di vista mediatico di visibilità eccetera Kirkman è un'altra cosa insomma e quanta libertà creativa avevi cioè com'è lavorare con Kirkman a una serie del genere ti lasciava spazio oppure uno molto severo che voleva le cose fatte come diceva lui cioè com'è no allora lui ha da sempre avuto cioè secondo me lui ha io e lui lavoriamo molto bene perché abbiamo lo stesso la stessa concezione del lavoro in senso collaborativo lui ha in mano gli archi narrativi la storia il plot e tutta la trama insomma sia in generale che nei dettagli sin dall'inizio lui sapeva già come sarebbe andato a finire tutto praticamente quello che mi ha lasciato fare a me che mi è valso diciamo l'onoreficenza di co-creatore è il fatto che dal punto di vista grafico visivo e pratico in alcuni casi mi ha lasciato completamente libero nel senso mi ha detto guarda dimmi tu cioè fai il design delle cose e poi io magari le azioni che ci sono all'interno del fumetto le posso cambiare in base al design che fai tu cioè se fai un mostro che ha le braccia lunghissime io costruirò una scena sul fatto che questo c'è le braccia lunghissime e cose del genere che figata abbiamo interagito in questo in questo modo e poi lui è uno che scrive le sceneggiature pagina per pagina vignetta per vignetta però sempre con la clausola di poter cambiare tutto quanto nel senso mi ha detto guarda se tu pensi che in qualsiasi scena è meglio togliere la vignetta aggiungerla oppure c'hai qualche dubbio su questa cosa e me lo vuoi dire eccetera tu sentiti libero sempre di interagire di dirmelo di parlare e abbiamo sempre avuto sin dall'inizio un dialogo molto aperto su tutto quanto il che poi mi ha anche insegnato tantissimo quindi io per esempio come ti ho detto all'inizio ho sempre esitato a dire voglio fare lo sceneggiatore perché non ho studiato ho studiato lì all'università ma era più una cosa cinematografica poco pratica come tutte le università purtroppo italiane di questo genere e quindi sono uscito da lì che non è che sapevo proprio fare una sceneggiatura all'inizio e alla fine però teoricamente sapevo un po' di cose e invece lavorare con uno sceneggiatore in questo modo molto interattivo dove vedevo proprio un po' come si dice l'interiora della lavorazione pezzo dopo pezzo mi ha aiutato tantissimo a sviluppare un metodo diciamo ho capito un sacco di cose così come quando facevo il colorista ho capito tantissime cose sul disegno colorando dei disegnatori bravi perché io stavo lì che zoomavo le vignette al 200% vedevo tutte le lineette e diceva vedi qua ha fatto così è un figo e così ho rubato a tutti una palestrona insomma e beh top e invece riguardo l'America perché io ho avuto qua anche Gigi Cavenago Werther del Leder insomma hanno raccontato la loro esperienza americana viene vista ancora come una sorta di terra promessa del fumetto l'America oppure il nostro metodo lavorativo non ha niente a che invidiare a quell'americano valutazioni del tutto personali provenienti da un'esperienza quanto mai ristretta perché io ho lavorato solo con la Skybound non ho lavorato in Marvel non ho lavorato in DC quindi solo in Image e Skybound nello specifico quello che mi sembra di capire del mercato americano e la differenza fondamentale è il bacino di pubblico che ha è un bacino talmente sconfinato che anche una nicchia lì è un casino di gente quindi anche se tu c'hai un tuo fumetto che può interessare una piccola percentuale di pubblico quella piccola percentuale sono talmente tante teste che probabilmente ti permette di camparci o quantomeno di non andarci sotto nemmeno fare una cosa disperata o cose del genere non devi ricorrere per forza l'autoproduzione perché c'è talmente tanta gente che li legge ma proprio statisticamente cioè sono tanti là e quindi alla fine da un punto di vista di visibilità di occhi che ti leggono di tasche che ti comprano eccetera eccetera la terra promessa lo è in quel senso è la terra dell'opportunità cosiddetta almeno una volta perché è proprio quello il fatto anche da una piccola idea tu se metti le tue radici in un piccolo campetto comunque cresci rigoglioso perché in quel piccolo campetto ci stanno un sacco di persone eh quella quella è sempre stata una figata io l'ho mi sono letto anche tante interviste di autori piccolini che magari hanno fatto un'opera piccola da pochi numeri eccetera però sì magari anche Sandman nacque così c'era una nicchia piccolissima che poi diventò esondò totalmente però all'inizio veniva seguita solo dai fumettisti dai fumettisti dai fan dei fumetti che leggerono tutti i supereroi e poi hanno detto ma cos'è sto Sandman diamo una possibilità anche a questa e poi hanno capito che non c'era niente a che vedere con tutti i supereroi classici quindi sì da quel punto di vista è una benedizione e poi c'è Croma che invece è una tua creatura cioè l'hai disegnata e l'hai pensata ecco quindi la classica domanda com'è nata l'idea quanto tempo ci hai messo per raggiungere questo livello di autonomia eh allora è nata un sacco di tempo fa l'idea perché è nata mentre facevo il colorista proprio mentre facevo questi progetti cercando di propormi a destra e a manca a un certo punto io lavoravo sempre con uno sceneggiatore che è poi lo sceneggiatore di Dracca Frédéric Bremont e poi a un certo punto ho detto ah fammi vedere cioè fammi provare pure a tirar giù qualche storia un po' più complessa perché io ho sempre scritto però ho scritto storielline piccole umoristiche strisce vignette cose così ho detto fammi provare a mettere giù una storia un po' più grande e dato che in quel periodo facevo il colorista e studiavo colore perché insegnavo colore quindi per insegnarlo devi studiare mi sono reso conto di una serie di cose inerenti al colore prima fra tutte che non ricordavo un'opera narrativa un film un fumetto una serie un cartone niente che avesse il colore come un elemento narrativo però concreto non una sorta di metafora non alla Schindler's List dove c'è la bambina rossa tutto è bianco e nero o Pleasantville dove tutto è triste e poi diventa tutto a colori cioè lì il colore è un artificio narrativo un po' postumo che sta lì a rappresentare un passaggio o qualcosa io invece volevo proprio un fumetto che usasse il colore come un elemento narrativo vero che sta nella storia che tutti vedono che fa proprio parte della trama e quindi mi è venuta in mente questa storia questo personaggio e poi questa storia incentrata sul colore dove il colore ha un ruolo appunto quasi uno dei personaggi in un certo senso e ho cominciato a sviluppare l'idea per la Francia mi sono fatto aiutare da uno sceneggiatore e ho cercato di all'inizio perché io appunto avevo questa idea ho detto però io non so svilupparle quindi mi sono rivolto a Giovanni Masi peraltro che conoscerai e ho detto senti ma mi aiuti a sviluppare questa cosa perché io non so capace quindi lui mi aiutò a svilupparla per la Francia quindi diciamo io c'avevo in mente l'inizio un pochino di svolgimento e la fine e lui mi ha dato qualche dritta e mezzo l'ho presentato in Francia quindi ti parlo di quasi dieci anni fa l'ho presentato in Francia e in Francia alla fine me l'hanno accettato in realtà quindi c'avevo un editore poi mi ha chiamato Trondheim poi mi ha chiamato Kirkman la cosa è andata a perdersi e io quando stavo finendo Blivion Song ho detto sai che c'è io vorrei presentarlo in America cioè non voglio più farlo in Francia perché lavorando per l'America mi sono anche reso conto che il mio linguaggio proprio perché sono cresciuto con i fumetti americani il mio gusto eccetera è sempre un pochino più rivolto in quella direzione e quindi ho detto adesso lo butto tutto giù e lo riscrivo da capo completamente quindi ho buttato tutto il lavoro che avevo fatto e l'ho rifatto tutto da capo cambiando tutto i personaggi la storia eccetera con in mente una struttura americana quindi ogni 20 pagine un colpo di scena cose così e questo peraltro mi ha aiutato a darmi una struttura narrativa a tutto e poi l'ho presentato a Robert e al mio editor e mi hanno detto sei tutti contentissimi ho detto assolutamente sì facciamolo facciamolo noi facciamolo noi e lo stanno facendo lo stiamo facendo adesso e da noi grazie alla magica salda presto uscirà l'anno prossimo in due volumi e quindi niente sappiatelo ragazzi insomma sappiatelo ma a me incuriosisce molto anche perché sono dal tonico quindi voglio capire un attimo come affronterò un attimo come affronterò questa lettura però cioè io sai io sono una persona anche molto distratta molto smemorata eccetera e penso a quanto sia difficile autogestirsi tutto in questa maniera te come ti dai i tempi cioè qual è il tuo metodo lavorativo per non sbagliare per non bucare la consegna per cercare di darti tutta una struttura sono molto curioso allora io non è che ho un metodo vero e proprio io lavoro tutto il tempo quindi non c'è nessun metodo lì lavoro dalla mattina alla sera e basta così e basta questo è il mio metodo è cancellare la vita no diciamo che dipende dipende un pochino da quelle che sono le deadlines eccetera adesso per esempio per Chroma ho delle deadline completamente irreali e quindi io devo per forza di cose lavorare dalla mattina alla sera senza pausa il modo in cui riesco a mandare giù questa cosa e a non farmi prendere dall'ansia perché magari dico oddio la sto tirando via no non va bene devo starci un altro giorno no non posso è che penso che è il massimo che posso fare cioè proprio il massimo e quindi la mia coscienza è apposto che la cosa che ho scoperto negli anni è la cosa primaria in questo lavoro è avere la coscienza pulita di aver fatto tutto quello che si poteva fare poi insomma se il pubblico è contento di leggerla e trova non so si diverte impara e cose del genere da quello che scrivo io sono super contento diciamo che da questo punto di vista lavorare a tutto quanto insieme quindi scrittura disegno colore che è la prima volta che lo faccio più che altro è una grossa responsabilità nel senso che uno dice ah beh però da paura perché fai tutto tu puoi fare un po' come ti pare eh insomma no in realtà si puoi fare un po' come ti pare cioè si però c'hai anche delle responsabilità diverse insomma anche un po' più vai senza rete diciamo dai è un po' quello un po' anche che c'è una cosa a cui nessuno pensa che è non sai mai quando fermarti perché non devi mai passare il tuo lavoro a qualcun altro cioè quando disegnavo Blivian Song a un certo punto io per forza di cose mi dovevo fermare perché doveva continuare Annalisa Leone con i colori e quindi io devo passare le cose adesso invece non c'è questo passaggio cioè sono io che me lo passo da solo e quindi io posso ritornare sulla sceneggiatura posso ritornare sul disegno posso ritornare sul colore quante volte mi pare e questo è un è un incubo è terribile perché poi non finisci mai quindi devi finire che sei mai soddisfatto sfai e rifai ok ma per forza di cose hai parlato sicuramente con una marea di disegnatori e tutti quanti ti avranno detto che non sono mai contenti di quello che fanno la voglia quindi a un certo punto tu capisci pure che una parte integrante del lavoro soprattutto del fumettista è il tempo è il compromesso col tempo che non può essere ignorato è parte integrante del saper disegnare in un certo senso che ansia davvero ti capisco veramente e poi una cosa che mi fa venire tanta ansia sempre per collegarci a questo è il fatto che faranno un adattamento di Oblivion Song è stato annunciato da un po' di tempo ecco questa cosa ti preoccupa oppure no guarda questa cosa in realtà io la tengo in fondo al cervello in una stanzetta buia ogni tanto gli passo un pochino di cibo sotto la porta ma non ci penso non ci penso perché è contemporaneamente una sorta di bomba di ansia gioia tutto quello che puoi pensare però anche soddisfazione dai sì quello sì sicuramente soddisfazione gigantesca però ovviamente poi in questo caso in quanto il disegnatore su quello io non credo che l'abbiano scelto per adattarlo grazie ai miei disegni l'hanno scelto soprattutto per la storia poi sicuramente sono stati anche insomma intrattenuti dal disegno però in questo senso io sento di essere meno diciamo responsabile di questa cosa però detto questo ha per me soprattutto non l'ansia ma proprio l'impazienza di vedere una cosa trasferita in un altro medium quella è una cosa che davvero non vedo l'ora però appunto dato che so che queste cose possono essere trascinate per anni morire subito essere fulmine è totalmente randomica aleatoria la cosa io non ci penso quindi sta lì ogni tanto qualcuno me lo chiede dico ah sì è vero beh speriamo vediamo io so che insomma le cose un pochino stanno continuando dietro le quinte ogni tanto ho qualche brandello di notizia da Robert per adesso stiamo a vedere io sono ovviamente contentissimo spero soprattutto che mi coinvolgano nella preproduzione voglio andare lì a disegnare i mostri è bello quello sarà il monster design invece per Chroma hai in mente di fare accetteresti una roba del genere ti andrebbe di fare una cosa no assolutamente che schifo no no via via mai sai cosa sarebbe bello secondo me un videogioco così un bel videogiocone però ti piacerebbe parecchio porca miseria come vedi io ho una postazione non troppo dissimile dalla tua io anche sono un videogiocatore e smazza mi piacerebbe un sacco sarebbe sarebbe un sogno sarebbe fighissimo anzi su Oblivion Song per un nanosecondo c'è stata anche una cosa in quel senso poi appunto quella è evaporata lì ho imparato che non devo mettere il mio cuore in niente se non in quello che sto facendo in questo esatto momento davanti ai miei occhi se no è impazzisco anche per questo si lascia nell'anticamera del cervello questa roba però chissà lavorare col colore su un gioco è stato fatto credo anche con The Blob un vecchio gioco dove devi un platform dove devi colorare però secondo me a questi livelli no vedremo vedremo io ti auguro ovviamente il meglio chiaramente per tutti i tuoi progetti grazie grazie ti ringrazio Olore per il tuo tempo in bocca al lupo per tutto spero di vederti insomma butta fuori sempre più progetti sempre più belle cose perché insomma sei un vanto italiano come i tanti che lavorano in questo paese e ce la mettono tutta quindi grazie ancora grazie ancora di aver condiviso grazie a te ciao buon lavoro ciao 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 ciao